segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te tanto una valutazione sull'incontro sulle parole dette ieri da da mario draghi all'incontro con con biden e poi entriamo insomma su quello che sta succedendo in italia ieri è stato diciamo il grande giorno della chiusura della parentesi petrocelli e poi ci sono anche altre notizie riguardanti insomma i rapporti c'è stato l'incontro tra conte e letta insomma dove si è parlato tra tanti altri argomenti ovviamente anche delle ultime frizioni del di questi giorni tanto una valutazione su su draghi il problema è gli interessi che gli stati uniti e l'inghilterra hanno rispetto agli interessi che all'italia e l'unione europea questo è il punto di domanda centrale noi se ci dicono che c'è una convergenza di interessi sulla contingenza dell'ucraina tra italia e stati uniti non sappiamo dov'è questa convergenza interessi perché una guerra lunga in ucraina è un dramma per gli ucraini è un problema di energia di gas per tutto il sistema economico italiano innescherà una crisi migratoria come si è detto anche ieri perché l'ucraina e il pane il grano ucraino sostanzialmente rende dipendente praticamente tutta l'africa questa crisi migratoria si riverbererà sulle sponde del mediterraneo di fronte agli stati uniti che stanziano 20 miliardi in armamenti 20 miliardi in armamenti significa che non è una guerra che dura un mese due mesi e non è uno stanziamento che mira un negoziato noi questo da draghi volevamo sapere vogliamo sapere perché chiederemo di venire a riferire in parlamento c'è già una data il 19 maggio sì ma non ma è un informativa al senato non è diciamo quello che abbiamo chiesto insomma anzi che niente ora non entriamo nel tecnicismo informativa comunicazione però non è diciamo quello che che chiedevamo ci accontentiamo purtroppo ci dobbiamo accontentare e questo non va bene non va bene la prima forza di maggioranza chiede che il presidente venga a riferire al parlamento non al movimento 5 stelle al parlamento ai cittadini qual è la linea due mesi più di due mesi di distanza dall'inizio del conflitto qual è la linea dell'italia perché ribadisco da quello che emerge da tutto da quello che dicono tutti gli osservatori l'interesse dell'unione europea non è l'interesse non sono gli interessi degli stati uniti farete pressione anche per un nuovo voto sull'invio alle armi perché questo è un altro nodo oggi insomma leggendo le agenzie e leggendo anche i riferimenti tra l'altro ne parla anche il ministro il ministro mara carfagna dice che non ci sarà la possibilità di un nuovo voto sull'invio delle armi perché quello è già stato autorizzato e copre fino al 30 settembre infatti il tema non sono le armi cioè se il congresso americano manda 20 miliardi di armi non è che c'è un problema di carenza d'armamenti in ucraina a disposizione degli ucraini problema sarà quando arriveranno la logistica e quant'altro ma gli ucraini non avranno un problema d'armi tra poco ci sarà un problema di uomini probabilmente in ucraina allora noi dobbiamo decidere siamo certi che non si trasformerà mai in un invio di uomini questa guerra il problema è l'atteggiamento non è il l'invio di un'arma anziché quell'altro cioè queste armi servono per aprire il negoziato o servono per continuare una guerra infinita perché quando putin ha invaso l'ucraina quelle armi quell'invio di armi che noi rivendichiamo era difendiamo la popolazione ucraina non si può permettere un'invasione del genere putin avrebbe invaso l'ucraina in pochissimo tempo senza l'aiuto di quelle armi si è messo in piedi l'idea di un negoziato perché non c'era la russia che invadeva un'ucraina in ginocchio no si è dato modo a uno dei contendenti in qualche modo all'aggredito di potersi rialzare di poter stare in piedi ma adesso cosa vogliamo fare andare fino a cambiare il regime in russia qual è l'idea che si ha negli stati uniti in inghilterra nella nato dietro alle parole di stoltenberg cosa c'è un cambio di regime in in russia una sconfitta della russia perché io riprendo le parole di macron macron è stato chiarissimo in questo ha detto se noi vogliamo costruire una pace in europa non ci potrà essere un trionfatore e uno annichilito e annientato perché altrimenti la pace in europa non si avrà mai diciamo antonio polito oggi sul correa della sera riprende un po tutto quanto il discorso di macron e di ieri dove quella parte lì però nasce anche dal fatto che c'è stato un paese che è aggredito c'è stato un paese che 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 aggressore e che diciamo che da questo punto di vista anche il regime change l'ha provato prima la russia nei confronti di chiev poi ritarando un po quelli che sono questo che sono gli obiettivi questo è allora se dobbiamo fare tutte le volte la premessa putin ha fatto un'invasione terrificante grave fuori dalla storia una tragedia e tutto questo è colpa di putin cioè questo non bisogna premetterlo tutte le volte questo è un dato di fatto adesso come ci comportiamo noi il tema è questo adesso ha detto anche la possibilità di avere tutta l'integrità territoriale dell'ucraina quella va comunque preservata a questo riprendendo sempre parliamo farla noi la migliore